Un docufilm che racconta la storia di un personaggio molto particolare, Don Alessandro, 50 anni, cappellano di Santa Maria del Fiore. Sì, Don Alessandro Pachia ha nella sua vita a servizio di quello che è la vocazione, che ha seguito un ruolo che poi è un punto di riferimento per tutta Firenze. All'interno della cattedrale è il riferimento assoluto di momenti vissuti con grande spiritualità e con la profondità del luogo e delle caratteristiche dell'attività, ma contemporaneamente momenti che si sono immersi nella vita della città e che hanno avuto un senso profondo nella storia della città. Il fatto che David Battistella, un regista di grande significato, un giovane di grande talento, abbia voluto questo percorso di vita di Don Alessandro portarlo in un film è un elemento che da un lato incuriosisce, perché sarà una chiave di lettura di vicende che riguardano Don Alessandro ma che riguardano Firenze, che riguardano la sua cattedrale, riguardano la vita stessa della città fra dimensione spirituale e religiosa e dimensione secolare. In qualche modo ci regalano, ci offrono uno spaccato di una città che attraverso la sua cattedrale vive e ha vissuto da 50 anni ad oggi momenti che hanno fatto la storia della civiltà a livello mondiale.